Comandante, Conor, notizie su Lee? Non ancora, mi dispiace ma ho avuto da fare. I carri con i rifornimenti per il campo sono spariti, temo un sabotaggio. Un traditore di nome Benjamin Church, appena uscito di prigione, è svanito anche lui. Di certo i due eventi sono collegati. Di chi era accusato? Lo hanno sorpreso a scrivere ai lealisti dando informazioni sulle nostre età. Ha detto che voleva spaventarmi, per scongiurare la guerra. Bensogna. Troverò Church per poi. Cosa? Perché vorreste aiutarci? Ha importanza? Come vuoi. Sono stati segnalati i problemi lungo la via che va a sottolineare. Credo sia lui il responsabile. Ti suggerisco di cercarlo laggiù. Questa è un po' di non. Questa è un po' di non. Questa è una persona che ha fatto. Questa è un po' di non. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non più degli inglesi e del loro stupido reno. Ti sapevo ingenuo, ma così. I templari non aiutano la corona. Noi due abbiamo lo stesso scopo. Libertà, giustizia, indipendenza. Ma cosa? Johnson, Pitkin, Hicky. Volevano rubare la terra, saccheggiare le città, uccidere Washington. Johnson voleva comprare la terra per tenerla al sicuro. Pitkin invece puntava sulla diplomazia, ma tu hai scombinato i piani rendendo inevitabile la guerra. E Hicky? George Washington è un incapace, ha perso quasi tutte le battaglie a cui ha preso parte. Quell'uomo è un cociarvo di insicurezze e di dubbi. Guarda, Valle Forge, ammetterai che ho ragione. Staremmo meglio senza di lui. Senti, vorrei tanto darti una lezione, ma Benjamin Church l'ha fatta molto grossa. Tu vuoi i rifornimenti che ha rubato? Io voglio punirlo. I nostri scopi coincidono. Che cosa proponi? Una tregua. Forse... Forse stare insieme ci farà bene. Sei mio figlio in fondo e potrei ancora salvarti dall'ignoranza. Posso ucciderti, se preferisci. Ottimo. Andiamo allora. Sai almeno dov'è ora Benjamin Church? Temo di no. Speravo di sorprenderlo qui quando sarebbe tornato quei suoi. Ma sembra che sia tardi. Sono già venuti a prendersi tutto. Forse posso trovarlo. C'erano rifornimenti nelle casse. E anche abiti e medicine. Sperso andare. Sperso. La neve ha coperto le tracce Ma quel che resta Basterà inseguirle Che sfortuna Morirò congelato se non la sistemo Sei un uomo di Ben Churchill Bella mossa È stato saggio Fulgine Che cosa volete? Dov'è Benjamin Churchill? Non lo so Volevamo accamperci al nord di qui Dove di solito scarichiamo la merce Forse lo troverete là Ora basta Non c'era bisogno di ucciderlo Non sprechiamo tempo in discussioni inutili Raggiungi gli altri uomini di Churchill Infiltrati nel loro accampamento e scopri qualcosa E tu invece? Non preoccuparti Fa come ho detto È un ottimo carico Visto della polvere da sparo Mettra Da Churchill sarà felice E noi ricchi Quasi mi spiace Per il tempo Al freddo e al gel Gli basterebbe alzare bandiera Gli basterebbe alzare bandiera Gli basterebbe alzare bandiera Gli basterebbe alzare bandiera Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma sei sicuro? Non importa se io sono sicuro ormai. Faccio come dice a Churchill. Se sei preoccupato, parlane così. Certo che no. Trova a New York a quanto ne so. Vuole farsi notare? Perché abbia tanta voglia di tornare in Galenzi? Guarda un po' qui. Stava girando attorno al campo con fare sospetto. Sembra una sfia ribelle. No, è uno che conta. Uno molto speciale. Non è così, Aytan? Church mi ha detto tutto di te. Allora dovresti sapere cosa ti aspetta. Non sei affatto in una posizione di minacciarmi. Non ancora. A volte ho sistemata questa feccia. Raggiungimi a New York. Così? Non sei affatto. Un'altra. Beh, se non te la cambi con un paio di mercenari, allora non ti serve lavorare con ferro. Non ti serve lavorare con un paio di mercenari. P 때� training alla collaborazione. Bisogna sì. PerNotre se prepara la pasta della macabri sospetto. La volta Un'altra. Al x initiatives. Un'altra. Soltar. Grazie a tutti